Nel marzo del 2020 siamo stati investiti dalla pandemia di coronavirus. Abbiamo dovuto modificare le nostre abitudini. Abbiamo dovuto, dall'oggi a domani, approntare le parti. Per raccogliere i pazienti affetti dal Covid. Abbiamo assistito a tanta sofferenza. Abbiamo combattuto contro la morte. Noi però siamo sempre stati quello che siamo. Infermieri, osso, medici, altri ruoli sanitari. Abbiamo fatto quello che sappiamo fare. Il nostro lavoro. Alcuni colleghi e alcune persone care purtroppo si sono ammalate. Inferno. Abbiamo fatto tutto. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti